Ok, primo tiro, tiro di 5C6A E siamo molto contenti Speriamo che non ci vuole il piede No, ma mi sa che c'è la lupa Speriamo che c'è la lupa In generale mi ricorda ho paura è un po' che pelle grigio grosso questo lo fare quindi aspetta, voglio mettere l'altro non mi recuperare tanto dicevo non mi recuperare tanto non sto recuperando proprio niente è un po' che mi ricorda un po' mi ricordavo quello dopo ci dicevo un po' che è 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 scoperto dai questi due vengono ho scoperto oppure Grazie. Grazie.